In che modo il digitale può supportare l'industria perché diventi 4.0? Aumento della produttività e contenimento dei costi sono due degli elementi più importanti che l'industria italiana sta cercando in questo momento. Il digitale può fare molto per l'industria italiana, può aiutare a diminuire la difettosità dei propri prodotti, può aiutare le linee di produzione a non fermarsi mai, può aiutare la qualità degli operatori fornendo degli strumenti sempre più intelligenti in grado di controllare in tempo reale lo svolgimento del lavoro. Qual è il ruolo di Cisco nel favorire la trasformazione digitale dell'industria? Competenze e infrastrutture abilitanti sono i due elementi che Cisco sta sviluppando per l'industria italiana. Competenze perché non si tratta semplicemente di una rivoluzione tecnologica ma è importante anche lavorare sui nuovi skill che le persone dovranno avere per governare l'industria 4.0. Infrastrutture abilitanti perché i dati dal momento in cui questi vengono creati dalle macchine dovranno raggiungere i propri fruitori attraverso delle reti affidabili ma soprattutto sicure. Questo è l'obiettivo di Cisco. Questo è l'obiettivo di Cisco.